amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi vi presentiamo un servizio che spesso ci chiedono l'avevamo forse già presentato precedentemente comunque un servizio che facciamo frequentemente e volentieri per accontentare appunto i nostri clienti in questo caso la vettura è una audi a3 col motore 1000 turbo benzina però non abbiamo fatto nulla a livello diciamo di di motore quello che c'è chiesto il cliente come primo approccio è il la parte estetica delle pinze quindi quello che noi proponiamo è lo smontaggio delle pinze e la verniciatura con un kit specifico per una vernice ad alta temperatura un kit specifico per le pinze freno ricordiamo che a volte ci viene richiesto di fare una colorazione particolare ci dicono ma non è possibile farla dello stesso colore della carrozzeria dico no non è possibile perché la verniciatura delle pinze come praticamente come verniciare lo scherco quindi dove ci sono temperature elevate anche se non elevatissime ma comunque elevate sulle sulle pinze dei freni usandoli in maniera sportiva arriviamo anche a temperature vicine ai 100 gradi non possiamo ovviamente utilizzare la stessa vernice o quantomeno lo stesso trasparente della vernice della carrozzeria perché sennò si ingiallirebbe e sarebbe un lavoro fatto assolutamente male quindi esistono dei kit appositi ci sono quelli più economici spray che noi non usiamo noi usiamo dei kit a pennello quindi proprio come sol dire con un paziente a certosina viene smontata la pinza pulita perché va sgrassata completamente e poi c'è questo bicomponente per cui c'è un catalizzatore che va mischiato alla vernice che praticamente fa da indurente il risultato finale direi è più che soddisfacente la maggior parte delle delle volte ci chiedono di fare la verniciatura delle pinze in rosso ci sono una dozzina di colori diversi comunque quelli che sostanzialmente ci chiedono di più sono le pinze rosse in alternativa gialle o il blu classico bmw in pochi casi ci chiedono di fare delle colorazioni particolari siamo arrivati a fare addirittura delle pinze color verde smeraldo dei colori veramente improbabili qui possiamo vedere la pinza prima ancora che venga montata al cerchio che venga montato al cerchio quindi direi che il lavoro è assolutamente di soddisfazione tante volte riceviamo delle richieste dove ci chiedono di cambiare la possibilità di cambiare le pinze ma non da un punto di vista funzionale da un punto di vista puramente estetico allora spieghiamo che c'è una soluzione molto ma molto più economica andando a mantenere la stessa pinza quindi lo stesso diametro del disco e la stessa pastiglia unicamente andandola a verniciare altro diciamo altro dettaglio non su questa pinza posteriore perché come vedete non ha una superficie particolarmente ampia quantomeno su quelle anteriori che sono queste in alcuni casi adesso qua siamo un po al limite no direi che qua non è possibile però ci sono delle pinze più grandi quindi che qua c'è il buco dove si vede la pastiglia quindi una scritta qua sarebbe veramente troppo limitato lo spazio però ci sono delle pinze più grandi dove questo foro centrale è ridotto e possiamo applicare anche la scritta audi piuttosto che audi sport o bmw o quello che vogliamo quindi in alcuni casi possiamo anche fare questo genere di finitura ripeto è un sistema relativamente economico e il risultato è di assoluta soddisfazione quindi con poca spesa tanta resa si riesce a valorizzare quello che è la colorazione delle pinze poi da lì ovviamente la maggior parte dei clienti completano il discorso impianto frenante andando a cambiare i dischi mettendo ovviamente dei dischi lavorati forati puntati c'è diciamo un disco che non sia quello liscio come quello di serie e ovviamente le pastiglie di conseguenza direi che per questo tipo di servizio è tutto se avete bisogno di preventivi informazioni come dico sempre mi potete contattare in sede allo 027383175 dal lunedì al venerdì sono sempre a disposizione guardatevi il sito www.9milagiri.it all'interno del quale vedete tutti i servizi che facciamo compreso anche servizio verniciatura e pinze freno ovviamente andando a verificare la parte impianto frenante vi invitiamo a cliccare sulla campanella e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima